Conturbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. Vendeva online accessori per cellulari con il marchio Apple contraffatto. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha denunciato un 28enne di Napoli nell'ambito di un intervento scaturito da una segnalazione della società che su incarico della nota multinazionale monitora il mercato per intercettare gli eventuali casi di riproduzione illecita del brand. Infatti, dopo aver effettuato alcuni acquisti a campione su e-commerce, era stata accertata la non autenticità della merce. I finanzieri hanno effettuato dunque un sopralluogo nel deposito di nocera superiore, individuando gli articoli contraffatti, facilmente riconoscibili per l'evidente differenza di qualità. Questi prodotti erano scontati di circa il 30% rispetto all'istino prezzi degli store ufficiali, e la loro commercializzazione, oltre ad arrecare un danno economico alla casa madre, rappresentava anche un fattore di rischio per i clienti, potendo questi oggetti contenere anche sostanze tossiche, o comunque avere caratteristiche non in linea con i requisiti previsti dalla normativa del settore. Così, le fiamme gialle di nocera inferiore hanno sottoposto a sequestro circa 140 articoli, tra auricolari standard e wireless, alimentatori, cavi di ricarica e custodie protettive per iPhone, per un valore complessivo al dettaglio di oltre 5.000 euro. Il responsabile, a cui sono contestati i reati di contraffazione e di frode in commercio, è stato denunciato a piede libero e rischia fino a 4 anni di reclusione e una multa che può arrivare fino a 35.000 euro.